La riforma della giustizia serve al Paese per diventare più moderno, più giusto e più europeo. Noi democratici per questo ci impegneremo affinché le riforme vengano fatte. Ora però le attività si devono svolgere in sicurezza e per questo serve il Green Pass. Chi si oppone al suo uso non fa un buon servizio agli italiani.